Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Mizzar ed eccoci con una nuova quest secondaria dedicata a Dragon Ball Z Kakarot. Sempre nei panni di Goku richiamoci al Palazzo del Supremo e andiamo da Mr. Pumbo per la missione Il Custode del Guardiano. È una missione di ricerca, quindi tranquilli, vi faccio vedere subito cosa serve e come trovarlo. Beh ecco, mi chiedevo se andasse tutto bene. Certo, come sempre, però mi fa piacere che tu sia qui, ho qualcosa da chiederti. Davvero? Vorrei preparare al nuovo dio dei mobili più adatti alla sua statura, ma mi servono i materiali. Purtroppo al momento sono piuttosto occupato, potresti recuperarli tu? Mr. Pumbo vuole che raccoglie i materiali per poter costruire dei mobili per tente. Attenzione, disponibile dopo aver completato storie secondarie specifiche. Quindi ragazzi, mi raccomando, controllate la playlist e vedete se vi manca qualche storia. Nella peggiore delle ipotesi, comunque, a fine gioco avrete la macchina del tempo per poter recuperare le storie che vi siete persi. Certo che ti aiuterò, perdendo questo e altro. Grazie. Allora, cosa devo portarti? Mi serve del legno. Io, guardando la terra, non possiamo danneggiare alcun essere vivente, quindi non possiamo usare legne provenienti da alberi tagliati. Tuttavia, possiamo servirci di ramoscelli caduti per via del vento o altre cause naturali. Ok, sei sicuro che basteranno dei ramoscelli? Non ti servono anche dei chiudi o altro? Sono un artigiano esperto. Se ne raccolherai a sufficienza, non avrò problemi. L'ho già fatto per il dio precedente e per quello prima ancora di lui. Ho capito, allora andrò a cercarli. Portami in abbastanza e ti ricompenserò. Allora, questi ramoscelli, ragazzi, sembrano difficili da trovare, ma in realtà sono una cazzata. Per trovarli dobbiamo andare tra il villaggio di Olive e il villaggio di Luke. Comunque, il villaggio di Olive è la scelta più rapida. Ok, giunti al villaggio di Olive, raggiungiamo la punta del fiume e dobbiamo scorrere il fiume, ragazzi, seguendo il fiume. Ai bordi del fiume troveremo dei tronchi, però è più facile a dirsi che a farsi. Ve lo faccio vedere che faccio prima. Ed eccoci qui, ora. Per trovare questi ramoscelli, ragazzi, è semplicissimo. Vi basterà cercare questi tronchi che vedete qui a terra e trovare il ramoscello. Eccolo qui. Ecco, siamo già a tre. Adesso, ragazzi, semplicemente vi basterà a seguire il fiume e per lustrare tutta la costa. Scendete giù e cercate i rami come questi. Unc'è una gazzella d'oro? Aspetta. Se riesco a... No! Mannaggia! Vabbè, fanculo la gazzella d'oro. Comunque, questi qua, ragazzi, questi tronchi che vedete vi daranno i ramoscelli. Continuate per tutta la strada e li troverete. E questo è l'ultimo. Accordiamolo. Ok. E portiamolo da Mr. Popo. Ecco a te, Mr. Popo. Ah ah! Vedo che ne hai trovati 15. Ecco, veramente sono anche di più di 15. Ma comunque... Perfetto, ragazzi. E anche questa, questa è secondaria e poi è stata portata a termine. Come sempre, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo foste e a lasciare un bel commento se vi va. E mi raccomando, ragazzi, perché dalle statistiche di YouTube vedo che i video li guardate ma non siete iscritti. Quindi, non fate i monelli, iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Mizzaragaret. Ciao, guagliù! Ciao, buonasera! Ciao, ciao! Ciao, ciao. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!